Cari amici, la sera del 21 agosto 1986, nella provincia di Bamenda, in Camerun, muoiono improvvisamente 1.746 persone e 3.500 capi di bestiame. Ogni forma di vita animale viene annientata in una manciata di minuti. Scopriamo insieme cos'è successo. Le ferti di valli attorno al lago di origine vulcanica Nios, situato in una remota parte a nord-ovest del paese, ospitavano piccole comunità come Nios, Suvum e Cha, abitate da allevatori di bestiame e agricoltori. Dopo aver lavorato tutto il giorno, la sera del 21 agosto molti erano da dormire e alcuni forse intenti a finire il proprio pasto serale, quando, verso le 21, un lontano prontolio proveniente dal lago, simile a un tuono, e cheggiò nell'aria. Nessuno dei pochi ancora svegli se ne meravigliò, perché il mese di agosto è il più piovoso dell'anno lungo la catena di vulcani spenti che segna il confine tra Camerun e Nigeria. In un baleno più di 1.700 persone morirono. Nessuno al di fuori di queste valli si accorse di nulla. La prima persona a comunicare che qualcosa era successo nelle valli del Nios fu il capo del Suvum Health Center, Emmanuel Gumbi, che, dopo aver pernottato nella città di Hume, prese la sua motocicletta per ritornare al suo paese. Quando raggiunse il paese di Cha, sentì un odore strano e si sentì stordito. Continuando il suo viaggio, si imbatté in un'antilope morta. Non lo trovò inusuale e decise di caricarla sulla sua moto. Ma nel proseguire il suo viaggio, Emmanuel si accorse di sempre più animali morti lungo la strada. Presto si imbatté in un gruppo di capanne a Nios. Decise di vedere se qualcuno lì sapeva cos'era successo agli animali. Ma sorprendentemente, avvicinandosi alle capanne, rimase sbalordito nel vedere cadaveri sparsi ovunque. Non trovò nemmeno una sola persona ancora viva. Tutti nelle capanne erano morti. Agitato per ciò che vide, Emmanuel corse indietro a Hume, dove aveva lavorato la notte precedente, per riferire il disastro di cui era stato testimone. Il presidente del Camerun ordinò un'azione immediata. Ci vollero due giorni per le truppe militari e le squadre di medici del Camerun per raggiungere i villaggi coinvolti nel disastro. Una volta arrivati, anche a loro si presentò una scena apocalittica. Tutte le vittime avevano i vestiti ricoperti di macchie rosse, irregolari e oleose, e sembravano essere morti soffocati. Temendo un'epidemia, il governo ordinò che tutti i corpi fossero bruciati in fosse comuni. Per giorni i soldati cremarono corpi e scavarono fosse per seppellire i morti. Circa 300 persone si salvarono dal disastro e immediatamente furono trasferite all'ospedale della vicina Ancambe, per offrire loro le cure necessarie. Contemporaneamente, il governo avviò una campagna di ricollocazione per gli abitanti dei luoghi coinvolti. Per questo, l'intera zona venne sigillata. Più di 4.000 persone vennero sistemate in campi provvisori per la prima settimana dopo il disastro. Per la metà di essi, la sistemazione temporanea diventò definitiva dal momento che non vi era la possibilità che si reimpossessassero delle loro vite a casa loro. Il primo indizio per trovare le radici della tragedia fu il fatto che la maggior parte delle persone decedute vivevano a raggio di 19 chilometri, lungo i lati est e ovest della valle del lago Nios. Gli scienziati accorsi sul posto riscontrarono che più ci si allontanava dal lago e più basso era il tasso di mortalità. I loro dubbi vennero confermati dai sopravvissuti, i quali dichiararono che, la notte della tragedia, essi udirono dei boati provenire dal lago, seguiti da uno strano odore, simile a polvere da sparo misto a uova marce. Alla fine, l'aspetto del lago confermò agli scienziati che era caduto qualcosa di strano. Il lago Nios, noto per il suo colore azzurro, era completamente rosso. Ma vediamo di spiegarci meglio. Il lago Nios è un lago formatosi nel trattere di un vulcano inattivo profondo 208 metri. A causa delle condizioni climatiche tropicali, la temperatura dell'acqua superficiale è più alta e quindi meno densa e più leggera, mentre quella sul fondo è più fredda, densa e pesante. In questa situazione, gli strati di acqua non si mischiano, bloccando il diossido di carbonio, che si dissolve nello strato inferiore di acqua più fredda, senza poter raggiungere la superficie e disperdersi nell'aria in modo graduale. Quando l'acqua ha raggiunto il punto di saturazione dei gas, essa si trova in una situazione instabile. A questo punto, un innesco può portare al rilascio esplosivo del gas disciolto. La causa scatenante può essere dovuta a un terremoto, forti venti, cambiamenti di temperatura o a piogge particolarmente intense. Nel caso dell'eruzione del lago Nios, si ritiene che l'innesco sia stato causato da una frana, anche se ancora oggi vi sono vari dibattiti con opinioni contrastanti nell'ambiente scientifico. Quello che è successo al lago Nios è stata un'eruzione limnica, detta anche ribaltamento del lago. I campioni di acqua prelevati dal lago rivelarono valori incredibilmente elevati di diossido di carbonio, chiara evidenza di un'eruzione di questo tipo. Il colore rosso del lago costituiva un'ulteriore prova. Risultò essere, infatti, l'effetto del ferro disciolto. Solo un'eruzione limnica può portare in superficie sedimenti ferrosi dopo averli asportati dal fondo del lago. Sulla base dei calcoli svolti dagli scienziati, l'eruzione limnica del lago Nios fu una di quelle con le dimensioni più terrificanti. Rilasciò in aria un quantitativo tra le 100.000 e le 300.000 tonnellate di diossido di carbonio. In aggiunta, l'eruzione rilasciò altri gas, come il diossido di zolfo e il solfuro di idrogeno, da qui la puzza di uova marce riferita dai sopravvissuti. Il diossido di carbonio rilasciato, pesante 1,5 volte l'aria, formò una densa nuvola di gas, spessa 50 metri, che si disperse lungo la valle alla velocità stimata di 40 km orari. Il risultato fu devastante. Non vi furono danni agli oggetti nell'area, ma tutte le forme di vita andarono distrutte. Il coordinatore dell'unità di emergenza alle Nazioni Unite di Ginevra chiuse il computo delle vittime a 1746, ma si teme che fosse decisamente più elevato. 3500 capi di bestiame vennero uccisi da questo disastro, che venne considerato una catastrofe umanitaria. Il diossido di carbonio è presente nell'aria che respiriamo, nella piccolissima quantità dello 0,039%. A concentrazioni maggiori può essere pericoloso. Una miscela di aria che contiene il 10% di CO2 provoca lo svenimento in meno di un minuto e, se non si interviene prontamente, ulteriore esposizione a questi livelli provocherà la morte. Tra tutte le teorie sulla motivazione, sul perché ci fu questa eruzione limnica, l'unica certezza era che il lago Mios stava ancora accumulando CO2. Dal momento che la dinamica alla base dell'eruzione di gas è ancora sconosciuta, il disastro potrebbe ripresentarsi nuovamente. Alla domanda come prevenire future simili eruzioni. Gli scienziati se ne uscirono con una soluzione sorprendentemente semplice, ma salvavita. L'installazione di piattaforme con tubi di degasificazione. In pratica, questi tubi prelevano l'acqua satura di diossido di carbonio dal fondo, per portarla in superficie, in modo che, quando l'acqua si trova a minor pressione, rilascia la CO2 in modo sicuro e in piccole dosi. Il primo tubo venne installato nel 1995 e gli scienziati assicurarono che avrebbe funzionato. Un altro tubo fu installato nel 2001 e altri due nel 2011. Questo sistema consente di rilasciare la quantità di diossido di carbonio equivalente alla quantità di gas accumulata sul fondo del lago. Era un modo semplice ma efficace di evitare lo stesso disastro del 1986. Oggi il lago Nios ha ancora lo stesso colore rosso ferroso che presentava dopo l'eruzione limnica. La valle del lago si presenta vuota, con le sole rovine di ciò che un tempo furono dei villaggi prosperi.